Fare chiarezza, rimettere le informazioni al proprio posto, chiarirà i sindaci all'opinione pubblica che Sei Toscana non decide gli importi delle bollette. Il piano tariffario è stabilito dal lato toscana del sud, espressione a sua volta dei comuni stessi. A spiegarlo è Fabrizio Vigni, presidente del gestore unico Sei Toscana, venuto ad Arezzo per incontrare l'ato ed i sindaci in questi giorni in cui c'è forte preoccupazione per l'aumento delle tariffe per il servizio di smaltimento integrato dei rifiuti. I sindaci fanno un bellissimo mesteriaccio, devono amministrare in tempi difficili i loro comuni e oltre a questo mestiere sono al tempo stesso anche regolatori del servizio perché questo è il compito che spetta al lato, i sindaci fanno parte dell'assemblea del lato, ma non ultimo i sindaci sono anche i proprietari del gestore Sei Toscana perché Sei Toscana è il gestore che ha vinto la gara, per l'appunto è una società mista pubblico-privata e i soci seppur indiretti sono i comuni, le due province, insomma proprietà pubblica. Ad esempio oggi abbiamo letto di un più 15% probabile sul comune di Arezzo, altri comuni ancora di più, non sarà così? Non alzo le mani perché non spetta al gestore, la tariffa non la decide il gestore. Nel lato Toscana Sud, che è il primo dei tre ambiti territoriali ad aver fatto la gara in Toscana, c'è stata una gara. Ed è la gara, il bando di gara che determina i criteri, i parametri, gli standard. A decidere le tariffe, o meglio il corrispettivo del servizio, è lato, è l'autorità di ambito, non il gestore. Ci mancherebbe altro. Quindi quando io continuo a leggere sui giornali che Sei ha presentato un piano tariffario che è stato bocciato, non so di che cosa si stia parlando. Noi non abbiamo presentato un piano tariffario perché non è il nostro compito, non potevamo farlo. Può darsi che qualche comune, esempio se c'erano comuni ancora a Tarso, che non coprivano il 100% del costo del servizio, lì ci sarà uno scalone. Come può darsi ci siano altri comuni che invece forse pagheranno meno dello scorso anno. Ma ripeto, anche questo non è mestiere nostro, è mestiere del lato.